buonasera vittorio esposito capitano del all star terza giornata campionato state per sfidare i ragazzi del coca junior un volto pronostico e oggi abbiamo visto un po con le formazioni buonasera luigi sorrentino bomber attaccante del coca junior terza giornata di campionato ci auguriamo di confermarci perché siamo su una striscia positiva quindi vogliamo confermarlo ci impegniamo come nei primi locali un bel messaggio alla tua squadra forza ragazzi impegniamoci ciao Vado, vado! Vado! Vado, vado, vado! Vado! Vado, vado, vado! un po' di... un po' di... un po' di... Sì, sì, sì. Buongiorno a tutti 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 Buongiorno a tutti